ciao oggi se sei qui è perché ti è arrivata la seconda email di federico leva infatti così come è arrivato a te è arrivata anche a un mio cliente partner che mi è la girata per poter sistemare questa situazione diciamo almeno una volta per tutte infatti nel primo nella prima risposta a federico abbiamo dato abbiamo detto che non avevamo i dati quindi se lui ci inoltrava i dati relativi a quando ha visitato il sito e quali sono i cookie che sono stati installati sul suo computer avremmo provveduto alla rimozione completa dei suoi dati in modo tale da non più mandare questi dati a google che google essendo in america avendo i server in america e archivia i dati degli utenti in america e lo stato americano il governo americano può accedere a queste a queste informazioni ed è questo che viola la gdpr quindi per tornare gdpr compliance quindi aderire completamente alla normativa gdpr dobbiamo ovviamente risolvere il problema federico leva mi viene da ridere perché ovviamente federico non ha fatto questa attività ho visto le varie interviste che ha tenuto non ha fatto questa attività perché vuole rompere le scatole solo al mio cliente oa a migliaia di utenti e di proprietari di siti nel web perché vuole denaro oppure vuole fare qualcosa di particolare semplicemente vuole sensibilizzare il pubblico sul fatto che google analytics e google stessa essendo un'azienda americana possa condividere questi dati che possono essere sensibili al governo americano e quindi lui opta e suggerisce per disinstallare praticamente completamente il servizio di google e installare altrettante applicazioni open source che non hanno questa tipologia di problema e non sono proprietà di nessuno se non appunto di chi è proprietario del del codice e quindi delle attività open source praticamente siamo tutti proprietari di quello e non c'è nessuna trasmissione di dati sensibili a governi esteri quindi ecco lui l'ha fatto l'ha fatto con questo intento ma ovviamente noi dobbiamo rispondere a lui perché altrimenti non siamo con la normativa non siamo a posto e non stiamo non siamo compliance appunto alle normative privacy e gdpr quindi andando nell'operativo com'è che possiamo risolvere il problema quindi eliminare i dati dal nostro google analytics in modo tale da non inviarli e non renderli disponibili al governo americano in pratica stando sempre alla filosofia di federico e soprattutto rispondergli in modo tale da avere dagli testimonianza che l'abbiamo rimosso e che i suoi dati quindi sono tornati al sicuro quindi adesso si chiama federico leva perché è federico leva nel momento in cui ci arriverà un altro cliente ok che ci segnalerà queste cose la procedura è molto semplice dobbiamo chiedergli quali sono i cookie e i cookie sono quelli che ci ha girato appunto federico in questa seconda email e poi dopo rispondere con l'eliminazione che è quello che faremo in questo in questo video quindi lui cosa che ha fatto ancora massivamente immagino ha mandato a tutti quelli che hanno risposto che richiedevano maggiori informazioni il fatto che appunto lui ha visitato il sito in questa data quindi 2022 6 quindi giugno il 27 alle 20 e 11 e 51 quindi abbiamo proprio il momento preciso in cui lui ha visitato il nostro sito e noi con il nostro sito o quello del nostro cliente gli abbiamo installato quelli i cookie e quindi il cookie installato è questo GA sta per google analytics e poi dopo c'è il codice utente che gli è stato appiccicato come per identificarlo ed è questo quello che non desidera appunto federico leva vada a finire appunto sul server americani e quindi su google analytics tutto il resto della mail è praticamente autogenerato ed è standard per tutte le mail quindi molto probabilmente tu come seconda email hai ricevuto lo stesso testo soltanto che cambiano il dominio di riferimento che c'è nell'oggetto e che c'è nel gentile la data e questo questo campo e tutto il resto dovrebbe essere identico come seconda risposta di federico bene ora che abbiamo capito bene cosa ci ha mandato federico andiamo a vedere esattamente come come rimuoverlo dal nostro google analytics quindi sono già dentro all'interno dell'account del mio cliente nella vista nel mio cliente ovviamente stiamo parlando di google analytics 3 quindi quello che viene chiamato universal analytics perché sulla proprietà di google analytics 4 questa gestione è già stata praticamente risolta del problema della gdpr e del degli id utenti che non vengono trasmessi ma vengono appunto anonimizzati quando vengono inviati in america sui server americani quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo entrare appunto nel nostro account selezionare pubblico selezionare esplorazione utente e qua abbiamo tutta la lista di tutti gli utenti che hanno visitato il nostro sito nell'ultimo mese in questo caso luglio questi codici identificano in modo univoco quindi in modo molto preciso e non ripetibile l'utente che ha visitato il nostro sito ovviamente non abbiamo nome cognome e altri contatti ma abbiamo solo informazioni legati appunto a la navigazione abbiamo codici un id cliente che è effettivamente rappresenta quello che ha fatto con l'utente ci manca ovviamente i riferimenti e identificativi di quel cliente o di quell'utente ma qua abbiamo praticamente tutta la storia e se ci entriamo abbiamo tutta la storia di tutte le pagine che hanno visto per quanto tempo con quale dispositivo e abbiamo effettivamente un sacco di informazioni su questo utente quindi possiamo andare a fare delle attività di marketing specifiche eccetera a parte questo come facciamo a rimuoverlo una volta che abbiamo capito dove siamo adesso andiamo a vedere come rimuoverlo ovviamente noi andiamo sul giorno specifico del che ci ha indicato federico quindi siamo al 27 giugno e andiamo ad analizzare solo gli utenti del 27 giugno che sono 23 lo troviamo qua il numero che abbiamo identificato se andiamo appunto a a vederlo a esplodere tutti questi 23 dati semplicemente dobbiamo prendere l'ultima parte del nostro id cliente e fare trova e come puoi vedere abbiamo trovato esattamente vedi che coincide anche l'altra parte del numero abbiamo il numero 53 36 81 57 9 poi dopo quello che abbiamo cercato e questo abbiamo identificato il nostro praticamente federico leva che ha visitato il nostro sito alle 10 e ha visitato l'home page del nostro sito per 0 secondi anche qui riusciamo a capire che è vero che lui ha visitato il sito è vero che lui è stato etichettato da noi quindi abbiamo i suoi dati ma è anche vero che lui ha utilizzato un sistema automatico per la visita dei dei siti e quindi ne ha visitati talmente tanti appunto per fare questa attività diciamo di protesta o di segnalazione su vasta scala ma ha usato sistemi meccanici quindi quest'utente probabilmente non è lui ma è un robot cioè un crawler un appunto un un bot quello che viene chiamato bot è un praticamente un non è umano e quindi non è stato effettivamente lui a fare a fare questa questa visita ok detto questo una volta che l'abbiamo identificato andiamo su elimina utente e andiamo una volta l'eliminazione ci dice ci dice che non abbiamo più questo utente sul nostro sul nostro sito e qua andiamo a fare uno screenshot relativo al fatto che l'abbiamo eliminato quindi qua ho fatto una schermata che ci servirà da mandare poi dopo in risposta a come allegato a federico leva in modo tale che gli diciamo guarda che questo codice questo codice è abbiamo richiesto l'eliminazione dei dati infatti già noi non li possiamo già più vedere quindi l'eliminazione completata ovviamente qua siamo riusciti a identificarlo molto chiaramente perché il lui essendo un tecnico ci ha fornito proprio i dati precisi se dovesse dovessimo ricevere dei la stessa segnalazione da un cliente meno esperto che ci dice solo magari che ha visitato il nostro sito quel giorno specifico e abbiamo 23 100 utenti ok per non sbagliare e essere sicuri e dare testimonianza che abbiamo rimosso tutto e tutti i suoi dati sensibili conviene eliminare tutti gli utenti che abbiamo su quel giorno in modo tale da dimostrare che abbiamo cancellato completamente tutto e quindi andare a rimuovere a fare la stessa azione che abbiamo fatto adesso per appunto rimuovere tutti in modo tale da poter fare un ulteriore screenshot dicendo che guarda che questi sono gli utenti che avevo sul sito questi sono tutte le testimonianze che sono stati eliminati tutti ovviamente se sono tanti se sono 23 facciamo presto se sono 10 mila ok non diventa più molto molto intuitivo molto veloce fare un'attività del genere allora dobbiamo insistere nell'ottenere ok è vero che tu mi richiedi la cancellazione dei cookie ma devi dirmi esattamente qual è il cookie che tu hai installato e dobbiamo arrivare a questa tipologia di dettaglio così da poter dopo identificare il nostro utente direttamente sul sul sito se è su google analytics nel caso in cui non lo riuscissimo a trovare una volta che abbiamo questo codice allora ti consiglio di estendere l'asso temporale quindi iniziamo magari da quando abbiamo iniziato tracciare i dati facciamo nel 2020 fino ad oggi che oggi è il 5 agosto applica e qua facciamo una ricerca all'interno di tutto il nostro sistema quindi andando a fare una ricerca così andiamo a verificare appunto se ci sono i nostri i nostri codici in questo caso come vedi non me l'ha identificato vediamo se facendo così lo trova eccolo qua dobbiamo metterlo completo in modo tale da trovarlo molto velocemente e fare l'attività di rimozione qua l'ho già fatta quindi e possiamo quindi concludere qui la parte su google analytics perché abbiamo terminato qua la risposta semplicemente andiamo a costruirla quindi andiamo a fare un nuovo messaggio ovviamente ti consiglio di fare io adesso non lo faccio perché non è il mio non è il mio non è il mio sito ma è quello di un cliente quindi la dovrò rispedire e il cliente stesso la inoltrerà a federico leva ma dovrà contenere esattamente questo quindi la risposta con lo stesso titolo qui sotto ricostruiamo la mail che ci è arrivata e andiamo a scrivere così con buongiorno federico federico grazie grazie per i dettagli virgo a questo ci ha permesso di rimuovere rimuovere tutti i dati relativi all'utente e mettiamo questo dal nostro google analytics qui in allegato la testimonianza la testimonianza della richiesta di rimozione rimozione dell'utente dal nostro sistema andiamo a caricare lo screenshot e ti ringrazio per la collaborazione collaborazione resto a disposizione michele in questo caso perché lo mando io come michele se no come il nome del del mio cliente che si chiama simona e metterà ovviamente la sua firma ma questo è tutta la email come deve essere spedita appunto in risposta a federico leva la seconda volta quando abbiamo rimosso abbiamo identificato il suo codice utente l'abbiamo trovato su google analytics e poi dopo l'abbiamo rimosso completamente dal nostro dal nostro tracciamento con questo è tutto ti ringrazio per l'attenzione e ti auguro buon lavoro a presto se ti è piaciuto il video metti mi piace al appunto il video stesso iscriviti al canale e spunta la campanella in modo tale che se faccio ulteriori video tutorial sarai avvisato direttamente via email e nella tua bacheca di youtube nei commenti puoi scrivermi quali altri video tutorial ti interessano così da poterli realizzare e poterti aiutare su altri aspetti legati magari alla privacy a google analytics o al web in generale infatti mi occupo ormai da 20 anni di qualsiasi tematica legata al web e quindi posso darti una mano con questo è tutto ti ringrazio per l'attenzione e ti auguro una buonissima rimozione dei dati di federico leva ciao a presto